Buonasera, gentili telespettatori. Ben ritrovati a questa nuova puntata di Prima News Focus. In questa puntata vorremmo parlare di un argomento purtroppo caldo che è il caro bollette, tutti noi lo abbiamo sott'occhio, sono aumentate le bollette della luce e del gas, ma lo vediamo anche in una maniera un po' positiva, ossia andando a scoprire le iniziative che i comuni stanno mettendo in campo per contrastare questo fenomeno. Noi questa sera abbiamo qui con noi il sindaco di Chieri, Alessandro Sicchiero, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. Perché Chieri ha messo proprio in campo una di queste iniziative, proprio per contrastare il caro bollette sia per gli abitanti che anche per le piccole imprese. Sì, con un grande lavoro di squadra con la Giunta, anche in tempi molto stretti, siamo riusciti a recuperare una quota importante dell'avanzo 2021, che sono circa 400 mila euro, circa, per pubblicare un bando che va a contrasto degli aumenti delle bollette energetiche. Il grande lavoro ha portato a un risultato importante, cioè non sono fondi che vanno esclusivamente alle famiglie, ma abbiamo pensato anche alle micro imprese, quindi imprese fino a 10 dipendenti, imprese del territorio che come le famiglie hanno subito questi aumenti, forse con un impatto ancora maggiore, e quindi con dei requisiti che sono indicati nel bando, tutte le micro imprese del territorio possono usufruire di questa, che abbiano avuto un aumento del 30%, almeno del 30% sulle bollette, dimostrabile. Ovviamente, purtroppo penso che siano parecchie. È facilmente dimostrabile, sì, esatto, e possono partecipare al bando e chiedere questo contributo. In parallelo, per le famiglie abbiamo anche fatto un ragionamento ulteriore, cioè di estendere la fascia ISE che può essere beneficiata, fino a 20 mila euro per raggiungere il ceto medio, che anche lì è sempre abbastanza bistrattato, e in questo caso quindi si è allargata questa forbice con 200 mila euro per le famiglie e 168 mila e 500 euro per le imprese. Recentemente abbiamo avuto come ospite anche il direttore della Caritas e della Diocesi di Torino, che ci raccontava come appunto si stia anche allargando la fascia di povertà, quindi anche andare ad aiutare il ceto medio forse previene anche alcune forme di povertà. Esatto, di povertà e morosità incolpevole, proprio perché si parte per le fasce medie, medio-basse, proprio dal mancato pagamento magari di qualche bolletta, da un affitto, che può parte generare la situazione, quindi cerchiamo di prevenirla in questo modo. Ecco, dove prenderete queste risorse? Dove avete preso queste risorse? Sono dall'Avanzo 2021 e quindi ci sono appunto in particolare 400 mila euro che sono dall'Avanzo e 18 mila e 500 che abbiamo raggranellato facendo una scelta anche questa forse impopolare, ma che ci siamo sentiti di fare in questo periodo, che sono parte del fondo, del capitolo di bilancio che normalmente destiniamo al videomapping, quindi alle illuminazioni artistiche sui monumenti di Chieri. Per Natale, per il periodo. Sì, esatto. Abbiamo quest'anno, per la situazione relativa appunto al caro energia, per anche il tema proprio delle congiunture internazionali, quindi anche guerra, il periodo faceva sì che ci si dovesse fermare un attimo e quindi parte di quel capitolo di bilancio l'abbiamo destinato appunto a far confluire in questo fondo e l'altra parte per altre iniziative comunque di animazione del centro storico. Benissimo. Adesso parleremo bene anche di questi bandi. Ho detto che all'inizio i sindaci e i comuni entrano in campo, volevamo sentire anche la voce di un altro sindaco, che è quello di Leini, Renato Pittalis, per sentire un'altra iniziativa anche fatta nel loro comune. La scelta dell'amministrazione comunale di Leini, che è proprietaria dell'impianto di teleriscaldamento che serve la rete cittadina e serve un 40% delle utenze cittadine del riscaldamento, è stata quella di bloccare le tariffe fino al 31 dicembre 2022. Questo è stato possibile dalla natura dell'impianto, che è un impianto che produce riscaldamento senza l'uso del gas, ma le tariffe sono sempre state per contrattualmente legate al prezzo del gas, alle oscillazioni del prezzo del gas. Questo è stato un meccanismo che ha portato dei vantaggi, ma sicuramente nel momento che stiamo vivendo porta a un grosso incremento delle spese a carico delle famiglie. Per questo motivo l'amministrazione comunale ha deciso di dare indicazioni di indirizzo alla nostra società che gestisce e che cura l'impianto, la produzione e la distribuzione del teleriscaldamento sul territorio cittadino, ha dato indicazioni e indirizzo di non procedere con adeguamente i tariffari. Questo perché i contratti come sono stati stipulati negli anni hanno sempre previsto una formula di indicizzazione del prezzo legato all'andamento del prezzo del gas. Una scelta che abbiamo deciso di fare, questo nonostante comunque esistano degli aumenti dei costi di quelli che sono gli importi e i costi di gestione anche della stessa società che gestisce il teleriscaldamento perché non dobbiamo dimenticare che l'aspetto energetico riguarda anche la fornitura dell'energia elettrica piuttosto che l'acquisizione della materia prima in questo caso. Ma una scelta come questa ci è sembrata doverosa per fare un gesto in questo momento di attenzione nei confronti dei nostri cittadini e delle difficoltà economiche che questo momento sta generando in tutte le famiglie. Ecco, questa appunto l'iniziativa del Comune di Leni, il ruolo anche dei comuni e dei sindaci è molto importante in questo momento. Sì, noi ci troviamo un po' in una morsa perché abbiamo cittadini che ovviamente chiedono supporto, a nostra volta necessitiamo di fondi perché comunque le bollette energetiche sono aumentate anche per il Comune, abbiamo effettuato degli interventi di riduzione dell'illuminazione pubblica, di riduzione della temperatura anche negli edifici comunali, dobbiamo trovare il modo di chiudere il bilancio perché comunque dobbiamo prevedere spese maggiori appunto per le bollette, in questo senso forse una richiesta di supporto che ribaltiamo al governo centrale per avere ulteriori aiuti economici perché il tema delle bollette energetiche sarà molto forte e caldo anche il prossimo anno ovviamente. Ecco, torniamo un attimo anche ai vostri ribandi, per quanto riguarda le famiglie scadrà il 30, vero? 30 dicembre. 30 dicembre. C'è la possibilità di fare richiesta, come si può fare? Esatto, allora c'è sul sito del Comune tutto ben indicato, si può chiamare allo sportello politiche sociali, si può venire allo sportello unico, anche sui canali social sono stati indicati i link per poter accedere, c'è un modulo da scaricare e dopodiché dopo un'istruttoria abbastanza rapida verranno definite le graduatorie e comunque si cercherà di dare ascolto a tutte le richieste, quindi nel caso c'era un massimale di 1.500 euro, ma a fronte di richieste tutte ben argomentate e inseribili nella graduatoria, si potrà anche valutare di ridurre il tetto massimo per dare un po' di respiro a tutti i cittadini che ne faranno richiesta. Invece per quanto riguarda le microimprese, volevamo anche prima far vedere un servizio che riguarda un po' la situazione dei commercianti secondo i dati dell'ASCOM. Vediamolo insieme, poi ne parliamo. Se la situazione di crisi persiste, circa 5.000 imprese del terziario sono a rischio chiusura con una perdita possibile di 15.000 posti di lavoro. E' l'allarme lanciato dalla ricerca di ASCOM Commercio Torino in collaborazione con Format Research che fotografa la situazione del terzo trimestre del terziario torinese. In primo piano ovviamente la preoccupazione delle imprese per il caro energia. L'87,5% delle imprese del terziario della provincia di Torino si aspetta quest'anno un aumento della bolletta rispetto al 2021 anche fino a 5 volte. Il 74,4% ritiene che dovrà affrontare delle difficoltà a causa dei rincari dell'energia e il 65% giudica insufficienti le misure prospettate per ridurre gli effetti del caro energia. Un quadro preoccupante di fronte al quale si guarda però al Natale con fiducia. Non sarà un Natale sfavillante, commenta la presidente di ASCOM Torino, Maria Luisa Coppa, perché le famiglie hanno spese alte. Ma il Natale è sempre il Natale e vorrei dare dei segnali di fiducia. Direi che il Natale possa essere un momento importante di rilancio. Per quel che riguarda la fiducia, si abbassa sia per l'andamento generale dell'economia sia per la propria impresa, anche se quest'ultima dà segnali di risalita. Tiene l'occupazione, peggiora la capacità di liquidità, destinata però a migliorare nel prossimo trimestre. E se si riducono le imprese che hanno richiesto un credito, il 29%, calano anche quelle che ricevono dal sistema bancario quanto hanno bisogno. Inoltre, il 36% delle imprese intendeva investire nel 2023, ma rinuncerà per l'aumento dei costi energetici. E infine, come soluzioni contro il caro bolletta, il 61,5% ha ridotto i consumi energetici, il 35,3% ha aumentato i costi al consumatore. Allora, Sindaco, abbiamo sentito che la situazione è abbastanza drammatica, comunque preoccupante. Voi, come abbiamo detto, avete stanziato questi fondi anche proprio per le micro-imprese. Sì, perché insieme all'attenzione alle famiglie, però le attività commerciali, le micro-imprese, l'artigianato rappresentano un po' la spina dorsale di una città. Quindi, se spariscono le imprese, sparisce il lavoro, i servizi. Per cui abbiamo, con forza e unità di intenti, voluto questo provvedimento. Ci saranno anche qui delle istruttorie. Sarà facile dimostrare per tantissime micro-imprese l'aumento, che ovviamente non deve essere dovuto a un aumento di consumo, ma a un aumento dei prezzi, del corso delle tariffe della materia prima. E si va così a intervenire in quelle situazioni, tenendo conto anche delle indicazioni che abbiamo ricevuto appunto da Ascom, da Confesercenti, da CNA, le imprese che sono un po' più energivore, quindi in particolare l'artigianato, le imprese di esercizi di somministrazione, carrozzieri, lettrauto, per la cura della persona, quindi estetiste, parrucchieri. Quelle imprese che dell'energia fanno il loro fulcro dell'attività, per cui serve proprio per la loro attività. Ecco, si può già sapere un po' se c'è stata attenzione, se ci sono state richieste o non è ancora possibile? Sì, allora abbiamo un'indicazione fino a qualche giorno fa, c'è una richiesta, anche grazie ovviamente all'aiuto, al supporto che a queste imprese danno le associazioni di categoria. È possibile che si possa anche riaprire eventualmente il bando, nel momento in cui avremo... Che scaduto? Sì, scaduto. e abbiamo... Su questo stiamo facendo delle valutazioni, perché dopo l'istruttoria capiremo se ci sarà dell'avanzo da ancora riutilizzare. Ecco, poi voi avete anche stanziato dei fondi per aiuti alimentari, giusto? Sì, esatto, altri 50 mila euro per l'acquisto di beni di prima necessità che verranno distribuiti tramite delle associazioni del territorio che già normalmente si occupano di questa tipologia di supporto e di intervento. Quindi un ulteriore aiuto. Un ulteriore aiuto. Oltre a questo abbiamo anche stanziato altri 50 mila euro per le associazioni sportive, perché anche queste rappresentano un aiuto al tessuto sociale di una città. Certo, sono importanti. Esatto, e hanno avuto dei danni ovviamente durante la pandemia, dei costi ulteriori sia per inattività, quindi perdita anche di quote e di iscrizione, ma soprattutto anche per fronteggiare le nuove richieste dovute al Covid per la sanificazione, la pulizia. E quindi abbiamo pensato di fare anche un'operazione di questo tipo utile per il recupero del tessuto sociale, che è un ruolo che svolgono con grande importanza le associazioni sportive. Davvero lodevoli queste iniziative. Noi adesso vorremmo parlare anche di un'iniziativa che è a brevissimo, cioè domani mattina, che riguarda un riconoscimento della cittadinanza speciale della città di Chieri per lo IUS Soli. Questa è una vostra iniziativa, giusto? Sì, esatto, è una nostra iniziativa che abbiamo da qualche anno e in questo modo è un'azione fortemente politica, ovviamente, partendo dal presupposto che questa legge ferma in Parlamento da tanti anni il fatto di poter riconoscere diritti e cittadinanza, e quindi diritti ai bambini che nascono in Italia, noi abbiamo pensato in modo simbolico di riconoscerla noi, la cittadinanza chierese per IUS Soli, un riconoscimento speciale, daremo una pergamena a tutte le famiglie, tutti i bimbi che hanno genitori nati all'estero con figli nati in Italia e residenti a Chieri. Quindi è un modo per far capire alle famiglie straniere con figli nati in Italia che se fosse stato per noi ci sarebbe già una legge di questo tipo e loro sarebbero già cittadini italiani. Un'azione politica, sicuramente però appunto un riconoscimento anche da parte della città. Sì, esatto, la comunità chierese in questo modo riconosce la presenza della comunità straniera, dei cittadini stranieri e in qualche modo li accoglie ideologicamente e simbolicamente dando loro i diritti che in realtà non hanno a partire dal voto, dal condividere le gite scolastiche con gli altri compagni e una serie di diritti negati. Sono tanti gli stranieri nel comune di Chieri? Allora noi abbiamo una comunità, in particolare la comunità rumena che è molto folta, rappresenta il 6-7% dei cittadini chieresi perché sono circa 2.000 e Chieri sono 37.000 abitanti e poi sì, in ordine sparso ci sono diverse altre comunità adesso non un paese in particolare ma dall'Africa c'è parecchia immigrazione, altri da paesi dell'est francesi, ce ne sono insomma da un po' ovunque però quella più folta è la comunità rumena che è già in seconda e terza generazione in qualche caso Quindi è stanziale Sì, 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 esatto, ben integrata nel tessuto Ecco, noi siamo quasi in chiusura però abbiamo l'occasione, visto che è qui con noi per raccontare anche dei progetti che magari sono imminenti o futuri che riguardano un po' il vostro comune Sì, noi abbiamo, diciamo, il risvolto positivo se così si può dire dal Covid è stato il PNRR e noi insieme anche ad altri comuni comunque siamo riusciti ad ottenere diverse risorse quindi stanno partendo parecchi progetti dal recupero di una ex caserma luogo di capannoni militari per come diventerà sede, nuova casa delle associazioni e lì abbiamo ottenuto 5 milioni e partiranno i lavori a marzo E in città? E in città, sì, sì, sì Limitro fa il centro storico in pieno centro storico c'è un'ex area industriale dismessa 30 e più mila metri quadri in cui inizieremo con un primo lotto per cui abbiamo ottenuto 8 milioni di euro alcuni aggiungeremo due lì ci sarà una ricucitura perché sarà utilizzata per, diciamo, housing sociale attività espositive, luoghi di incontro quindi verranno create due nuove piazze con degli abbattimenti e demolizioni quindi questa è una degli aspetti importanti abbiamo extra PNRR in cantiere abbiamo appena approvato una delibera di indirizzo di giunta di realizzare la nuova piscina che è attesa da decenni a Chiere ne abbiamo una, diciamo, a fine vita e quindi una nuova piscina comunale che verrà sicuramente apprezzata da tutti i cittadini quindi è una città in cantiere in fermento in fermento per fortuna ci sono davvero questi fondi anche del PNRR sì, è vero, è un'eredità del Covid però almeno arrivano e servono dalle grandi crisi si dice che nascono anche grandi opportunità e bisogna sapere le cogliere esatto, è proprio così io la ringrazio per essere stato qui con noi abbiamo appunto illustrato quelle che sono le vostre soluzioni importantissime per quanto riguarda il caro Bollette e anche alcuni progetti che vi riguardano grazie davvero tanto grazie ai nostri telespettatori per essere stati qui con noi anche questa sera vi rinnovo l'appuntamento con Prima News Focus per domani sera puntuali alle 23 una buona serata di cuore a tutti a tutti a tutti a tutti a tutti